ciao buongiorno che hai da accendere? tieni grazie grazie mille che bello il sole oh se ne sentiva proprio il bisogno non ce l'ho da un po' sei italiano? si sente? un po' ne lo so perché parlando del sole però a me manca che devo fare? piacere io mi chiamo Fausto Nadine senti per piacere puoi andare a fumare un po' più in là perché? eh c'è il culo di fuori sai sto un imbarazzo per piacere va un po' più in là scusami scusami io non me ne ero neanche accorto veramente scusami però scusa perché tu non hai i pantaloni? eh sto qua per un provino ah brava brava l'hai vinto l'hanno preso? eh non credo eh beh allora ti posso dire una cosa sono pazzi eh perché tu non hai visto le altre? no non le ho viste però però io ti prenderei sì sì davvero senti e tu invece? eh sei obbligato a vestiti da pinguino per lavorare qua dentro? guarda che questo è bellissimo è chic mi piace molto sì sempre pinguino però sempre ho capito però sempre pinguino chic lo mette senti ma quanto costa una camera qua dentro? dipende ce ne stanno tante vuoi sapere la più cara? ah sì 15.000 euro 15.000 euro sì 15.000 euro solo per dormire? solo per dormire ti va di vederla? e si può con me sì si può e allora sì e andiamo quando mi capita di vederla a me?